Accusato di violenza sessuale su una studentessa, insegnante agli arresti domiciliari. Incidente sulla statale 626, sale a 2 il numero dei morti. Calcio serie D, turno infrasettimanale alle 15, San Cataldese sul campo della Mezzia, capolista in condominio con il Catania. Avrebbe pronunciato frasi inopportune, poi avrebbe toccato il seno di una alunna undicenne che, scossa da quanto accaduto, si sarebbe rivolta a giugno scorso ad una sua insegnante, ai genitori e poi insieme a questi ultimi alle forze dell'ordine. A essere agli arresti domiciliari è un docente di scuola media a cui è stato contestato il reato di violenza sessuale sul minore, sulla base della misura cautelare eseguita dagli uomini della squadra mobile della Polizia di Stato di Caltanissetta, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Nisseno su richiesta della locale Procura della Repubblica. Dal racconto della undicenne ha poi avuto seguito una delicata attività di indagine e l'ascolto della vittima alla presenza di una psicologa esperta, come voluto da parte del GIP in sede di incidente probatorio. Ad essere ascoltati anche i compagni di classe, così, visti gli esiti delle attività investigative della Polizia di Stato, e il Pubblico Ministero ha richiesto la misura degli arresti domiciliari per prevenire l'eventuale ripetersi di episodi come quelli che sono la base di questa vicenda processuale di cui si attende l'esito. È deceduta la 72enne, è arrivata ieri in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia, vittime insieme ad altri due feriti, ora ricoverati all'Umberto I di Enna. Salgono così a due le persone morte per l'incidente che si è verificato ieri, dopo le 16 sulla strada statale 626 in zona Capodarso, a morire anche il conducente del mezzo articolato che dopo l'impatto con le due auto è precipitato giù dal viadotto. Immediati soccorsi sul luogo, intervenuti sul posto anche il personale Anas che ha provveduto a ripristinare la circolazione. Lutto nel commercio nisseno è morto Claudio Cannarozzo, a capo di diversi negozi del centro storico e in periferia. Da tempo era alle prese con una malattia, che comunque non era riuscita a tenerlo lontano dalla passione più grande, i suoi negozi che aveva tirato su da giovanissimo. Una passione condivisa con la moglie Ivana, i figli Christian e Daniel, la nuora morena. Da pochi giorni Claudio Cannarozzo era diventato anche nonno. La notizia dell'arrivo della nipotina gli aveva strappato un sorriso, nonostante le gravi condizioni di salute. Fino alla fine Claudio Cannarozzo ha lottato con forza contro un triste destino che l'ha strappato ai suoi affetti più cari all'età di 51 anni. Di lui collaboratori, dipendenti, colleghi e amici conservano il ricordo di un commerciante vecchia maniera, come scrivono in una nota giunta in redazione. Di quelli sempre pronti ad affrontare ogni genere di avversità, di quelli che fanno poche chiacchiere e cercano sempre il modo di risolvere i problemi, concretamente. Claudio Cannarozzo era questo e molto di più. Di lui hanno un ricordo indelebile anche gli appassionati delle processioni della Settimana Santa, tra Vare e Variced. Claudio c'era sempre, anche qui in prima linea e non da spettatore. Oggi si respira aria di profonda tristezza lungo Viale Conte Testa Secca, il suo quartier generale, con i suoi negozi chiusi per lutto. I funerali domani, mercoledì 5 alle ore 16 in Cattedrale. Il diario di Adamo ed Eva con Corinne Clery e Francesco Branchetti, che ne cura anche la regia, aprirà la stagione teatrale 2022-2023 domenica pomeriggio a teatro. Lo stesso Branchetti tornerà poi per lo spettacolo finale, Cose di ogni giorno, questa volta insieme a Danny Mendez, sempre nel dublice ruolo di attore e regista. Tra i 12 spettacoli in programma fino a maggio ci saranno anche il siciliano Antonello Costa, ritornerà in città Danila Stalteri, che si esibirà con Gianni Ferreri, e tanti altri artisti provenienti da tutta Italia. La stagione inizierà il 27 di novembre e terminerà il 7 di maggio. Saranno 12 appuntamenti, 12 appuntamenti domenicali. La stagione viene chiamata domenica pomeriggio a teatro e siamo alla 24esima edizione. Sì, verrà fatta qui al Teatro Oasi della Cultura. Diciamo che finalmente apriamo il sipario e apriamo la stagione senza veti. Infatti gli spettacoli saranno tutti in presenza, non ci saranno distanziamenti, non c'è l'obbligo della mascherina, chiaramente chi vorrà portarla e metterla la metterà. Quindi dopo un'estate, diciamo, dove le piazze si sono riempite, speriamo di riuscire a riempire pure teatri in infernale. Gli spettacoli del Teatro Sabia e Nisse non regaleranno tante novità, ma anche uno spettacolo che è stato riproposto quest'estate al pubblico. Ora però muori, amore mio, con la regia di Antonello Capodici. Tra costumi, telecamere e copioni, gli attori e le diverse comparse, insieme a tutto lo staff ad agosto, sfidando le altissime temperature di quest'estate, hanno attraversato il quartiere Angeli, la chiesa di San Domenico, la zona del cimitero e anche piazza Garibaldi, per girare le scene dell'ultimo film di Tony Gangitano. Un lavoro che tra recitazioni e attimi di vita vera, tratti dalla settimana Santa Nisse, è già pronto per essere visto dal pubblico. La storia di ritrovamento del Cristo Nero, infatti, verrà presentato prima a Palermo e poi a Caltanissetta. Finalmente siamo pronti, il lavoro è già definito, fra l'altro è una nuova tecnica che sto portando avanti, perché non avevo calcolato all'inizio determinate cose, che poi invece mi hanno fatto pensare che questa è una nuova, veramente tecnica di lavoro, perché abbiamo all'interno un qualcosa di nuovo. C'è del teatro, c'è il documentario, c'è anche il movie, il cinema, ed ecco che anche questo l'ho presentato. Quindi finalmente arriva O Cristo Trovato, quindi questo prodotto che oggi diventa un bel lavoro, che parla proprio del ritrovamento del Cristo Nero, Signore della Città, da parte dei figli amari nel 1618. Lo portiamo finalmente in visione e il 14 di ottobre lo portiamo in visione con la Fondazione Federico II, che sono stati i promotori di questo nuovo lavoro, mentre invece il 16 lo presentiamo qui a Caltanissetta, al Teatro Rosso di San Secondo, Palazzo Moncada, il 16 di ottobre alle ore 19. Chiaramente questo ci tengo assolutamente a dirlo, è un omaggio a tutta la città, quindi ingresso gratuito per tutti. Io già sono pronto a presentarlo in tutti i festival nazionali e internazionali, e questa è già una macchina organizzativa che si è già mossa e sta facendo questo lavoro per questo progetto. Poi tramite la Fondazione Federico II, fra l'altro avremo questa prima, sceneranno anche degli spagnoli, ci sarà la Polonia, ci saranno tante cose all'interno, ma il prodotto è in sinergia con la Settimana Santa di Caltanissetta, quindi sarà un grosso lavoro che loro hanno organizzato insieme a me e che sicuramente vedremo. Infatti all'interno di questo lavoro c'è anche la congregazione della Settimana Santa, compreso Gianni Taibbi, che ne faceva parte integrante di questo progetto, e che poi si vedranno nello schermo in una fase molto delicata, molto bella, che neanche loro sanno, perché il montaggio è un po' strano, ma fra l'altro le regie, ogni regista ha la sua visione. Io ho avuto questa e secondo me è molto vincente. Un progetto cinematografico che ha visto la partecipazione di tanti attori e molti nisseni. Grandi nomi, Gaetano Aronica, che fa le funzioni del prete in questo caso, Pierluigi Gagitano, Jacopo Cavallaro e Rosario Vizzini. E anche il teatro della parola di Caltanissetta, Tepa con Rigi, che ha fatto un bellissimo testo teatrale che è all'interno di questo prodotto. E poi ci sono tante comparse e tantissime figurazioni. Ci abbiamo anche Salvatore Pavone, C'è Salvatore Alfano, fra l'altro che è un nisseno doc. Poi i quattro figli amari vengono interpretati proprio da Pierluigi Gagitano, Salvatore Alfano, Salvatore Pavone e Jacopo Cavallaro. Oh signore benedetto, Che hai chiesto il crocefesso? Ma tu ne eras? Come l'ho detto? Nel weekend di sabato 8 e domenica 9 ottobre si terrà a Caltanissetta la quinta prova trofeo Italia regionale circuiti cittadini di karting, dove si prevede una notevole presenza di pubblico, tra appassionati del settore e tra persone che vorranno semplicemente guardare. Si prevedono otto categorie di prove lungo il tracciato cittadino, che misura 835 metri, che partirà dalla via Salvo d'Acquisto e toccherà le vie Aldo Moro, via Palmiro Togliatti e via Don Minzoni, dove nel piazzale andistante la scuola Don Milani ci saranno i box. L'evento è stato realizzato in collaborazione con il comune di Caltanissetta e la federazione Sicilia Karting, con la partecipazione dell'azienda nissena Creo Jam, che vedrà 80 piloti circa darsi battaglia all'interno del circuito cittadino rinominato per l'occasione la piccola Monte Carlo del Kart. È un evento fortemente voluto da tutti gli appassionati di questo sport, è una manifestazione desiderata da tantissimi anni e finalmente grazie all'amministrazione comunale e alla federazione siciliana karting siamo riusciti a svolgere al meglio una gara a carattere nazionale e regionale, quindi si svolgerà sia come trofeo Italia che prova di campionato regionale. Alle 15 fischio d'inizio del turno infrasettimanale del campionato di Serie D, San Cataldese sul campo della mezzia capolista che condivide il primato con il Catani a quota 9. Per i verdi amaranto, reduci dalla seconda sconfitta casalinga, un impegno tutt'altro che agevole. I tifosi sperano di ripetere l'impresa di Cittanova, ma non sarà facile contro una squadra che punta a giocarsi il salto di categoria con gli Etnei. La San Cataldese ha dimostrato di essere in grado di ottime prove proprio contro le grandi. Ne sa qualcosa il Catania, arrivato al Mazzola per conquistare il passaggio al turno successivo di Coppa Italia e sconfitto ai calci di rigore. Oggi il primo a non sottovalutare la San Cataldese è l'allenatore della mezzia, Raffaele Novelli, che parla così sulla pagina Facebook del club Calabro. E' una squadra che ha dei giovani, ma dei giocatori anche esperti, soprattutto nella parte centrale, con i due difensori centrali, a portieri over, ha dei giocatori in avanti anche importanti. E' una squadra che se gli dai campo, gli dai spazio, è una squadra che ti crea grandi difficoltà. Ma sappiamo benissimo che le partite sono tutte difficili, non esistono mai partite semplici, partite facili. Il quadro completo delle partite in programma. Canicattì-Realla-Versa, Castrovillari-Acireale, Catania-Vibbonese, Sant'Agata-Trapani, Cittanova-Santa Maria, Lamezzia-San Cataldese, Paternò-Ragusa, Mariglianese-Licata, Locri-Sanluca-Posticipo. Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, l'alta pressione continua a garantire condizioni di stabilità sul Mediterraneo centro-occidentale, quindi anche sul nostro paese avremo tanta stabilità, con sole protagonista un po' ovunque. Da segnalare giusto qualche addensamento però sulle pianure del nord nella prima parte del giorno, soprattutto al nord-ovest, e anche qualche velatura che potrà transitare sull'arco alpino al nord-est, nonché un po' di addensamenti sulla Sicilia più orientale. Più nel dettaglio quindi della nostra previsione, avremo una giornata nel complesso stabile, come dicevo, soleggiata. Attenzione però per qualche nuvola bassa che insisterà sulle pianure del nord-ovest, tra il Piemonte e la Lombardia, in via di diradamento, locali foschi e anche banchi di nebbia, anche nelle vallate interne del centro al primo mattino. Un po' di variabilità sulla Sicilia orientale, qui con occasionali piovaschi sull'entroterra durante il pomeriggio, ma per il resto tanta stabilità, sole protagonista e temperature sopra le medie del periodo, con punte anche di 26 gradi sul versante tirrenico e sulle isole maggiori. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Scarantino Via Paolo e Emiliani Giudici Servizio notturno Del Poggio Viale Luigi Monaco Corantino Saraguita